Il colpo di teatro è soprattutto nella tempistica, oltre che nei nomi. La notizia degli avvisi di garanzia a tre presidenti della regione, l'attuale Luciano D'Alfonso e i suoi due predecessori Gianni Chiodi e Ottaviano del Turco, arriva quando negli occhi ci sono ancora le immagini dell'inchino del Giro d'Italia sul luogo della tragedia, quel resort rigopiano di Farindola, spazzato via dalla valanga scesa giù dal Montesiella il 18 gennaio del 2017, che ha portato con sé 29 persone. I pesci grossi della politica, più volte evocati dal Comitato dei Familiari delle Vittime, sono arrivati a far parte da indagati dell'inchiesta sulla tragedia, primo fra tutti il governatore e senatore D'Alfonso come massima autorità di protezione civile regionale. Anche per i tre presidenti, per Mario Mazzocca, sottosegretario della Giunta con delega alla protezione civile, per Daniela Stati, che aveva la stessa delega ma nella Giunta Chiodi e per gli ex assessori Ginobile e Giuliante, che si sommano ad un'altra decina di persone, molto probabilmente presto ascoltate in procura. I capi di imputazione sarebbero gli stessi, già contestati agli altri indagati, cioè concorso in omicidio colposo plurimo, lesioni e disastro colposo. I nuovi avvisi di garanzia ruoterebbero attorno alla mancata redazione della Carta delle Valanghe, oggetto della denuncia sporta dal sindaco di Farindola Elario Lacchetta, anche egli indagato, che chiama in causa proprio la Regione. Carta della localizzazione dei pericoli da Valanga, di cui avrebbe parlato, negli interrogatori di dicembre scorso, Sabatino Belmaggio, attuale responsabile del Servizio Prevenzione Rischi della Regione, che ai magistrati pescaresi avrebbe anche consegnato materiale risalente alle passate amministrazioni regionali. Attendo la chiusura dell'indagine per poter esaminare il materiale e gli elementi di prova che sta raccogliendo la procura, ha dichiarato a Lanza l'avvocato Vagna delle Vigne, legale della famiglia di Sare Angelozzi, una delle 29 vittime, mentre Gianluca Tanda, tra i promotori del Comitato Familiari delle Vittime, ha ribadito che si tratta di un omicidio di Stato, dove sono coinvolti Regione, Provincia, Prefettura e Comune. Abbiamo aspettato questo momento con ansia, prosegue Tanda, adesso ci aspettiamo che gli indagati diventino imputati per poter poi combattere ad armi pari in tribunale. Chiaramente il convolgimento dei vertici della politica regionale degli ultimi 15 anni si trasforma anche in scontro politico, così Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle che punta il dito contro il malfunzionamento delle istituzioni ultradecennale. Io non sono solita commentare l'operato della magistratura, ho letto da cittadina una sorta di constatazione che la macchina amministrativa di Regione Abruzzo negli ultimi 15 anni, che sia stata amministrata dalla destra o dalla sinistra, evidentemente non ha funzionato. A commentare la vicenda c'è stato anche l'ex assessore regionale Donato Di Matteo, che si augura che gli amministratori coinvolti riescano a provare la loro innocenza. Ma intanto gli aspetti delle procedure giudiziarie lo fanno i giudici, a cui io ho dato sempre la massima riconoscenza di trasparenza e di capacità. Spero che questi problemi vengano risolti nella maniera dovuta, con le verità che ci sono e che secondo me possono essere sviluppate sempre. Mi auguro che gli amministratori coinvolti possano dimostrare la loro estraneità, perché probabilmente questo evento straordinario era un evento inatteso, che purtroppo però ha creato molti disagi.